La nuova strada è indispensabile, non esistono valide alternative e chi dice che i 20 milioni a disposizione non basteranno ce lo deve dimostrare. E' questa la posizione dell'amministrazione comunale fanese in merito alla tanto discussa variante di Gimarra. La nuova arteria progettata per migliorare la viabilità sulla statale, senza però stabilire il tanto auspicato collegamento tra Fano e Pesaro. Anche la nuova giunta regionale ha espresso in questi giorni le sue perplessità, ma, dati alla mano, secondo il Comune questa è letteralmente l'unica strada possibile. Dati i tempi, dati i soldi e dati i problemi che questa città ha, ovvero l'attraversamento della città stessa, soprattutto verso nord, la soluzione migliore, tecnicamente migliore e dal punto di vista viabilistico è quella di proseguire la strada interquartieri verso Gimarra e arrivare sulla statale 16. Sicuramente questo migliora la viabilità fanese perché da una parte libera la statale 16 nella zona nord da un traffico intensissimo che è sotto gli occhi di tutti e rende anche più sicura quell'area oltre che i quartieri vicino al cimitero e del poderino. Dall'altra parte compie una utile uscita per il quartiere di Gimarra che anche in previsione delle edificazioni che stanno nascendo, che sono state autorizzate negli anni, tantissimi anni fa in quel quartiere, è carente di parcheggi, viabilità e avere a Gimarra altri 200 appartamenti senza viabilità sarà sicuramente un dramma. Quindi questo è il nostro pensiero. Altre soluzioni diverse che comunque abbiamo studiato sono soluzioni inapplicabili perché con 20 milioni non raggiungono neppure metà degli obiettivi che ci siamo posti perché porterebbero il traffico nelle strade di campagna alle nostre spalle e quindi non risolverebbero assolutamente il problema. Noi riteniamo che quella sia la scelta giusta, ponderata, studiata. Ovviamente i progetti sono in corso, parleremo, cercheremo di mitigare tutti i problemi anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico che potrebbero sorgere ma noi pensiamo che quella sia la scelta giusta, dati i tempi che comunque la regione ha confermato e dati i soldi, 20 milioni, che sono un'occasione irripetibile ma purtroppo non bastano per fare un'opera enorme che colleghi più a nord delle due città Fano e Pesero ma servono solo a migliorare la viabilità cittadina. C'è però chi dice che i 20 milioni non basteranno neanche per quest'opera qui? Sarebbe bello capire su che base, visto che c'è uno studio fatto, si possa dire in questo momento che i 20 milioni non bastino. Metaforicamente parlando però più che una strada prima di tutto servirebbe un ponte, quello tra amministrazione e cittadini, da sempre fortemente contraria alla nuova variante. Quella strada è pianificata dal 1964, i terreni proprietari avevano contezza della possibilità che in un futuro si potesse anche arrivare a questa soluzione, fra l'altro non è una scelta così in fulmine al cielo sereno perché negli anni passati furono fatti progetti, avviati anche procedure di esproprio, per cui io ritengo che rassicurata la popolazione che questa strada sarà utile, che i soldi non verranno sprecati, vorrei rassicurare anche tutti quanti che tutte le situazioni verranno studiate attentamente come abbiamo sempre fatto in maniera tale che non incidano troppo sulla vita dei residenti. Quindi possiamo dire che verranno fatti degli incontri con i cittadini? Quando la situazione Covid lo permetterà ovviamente sì senza problemi e senza nessun timore di un confronto perché è un confronto basato su dati, su studi certi che abbiamo fatto.